buonasera nottambuli diamo un po vediamo se e come funziona buonanotte un attimo è fatto di mettere come al solito su twitter guarda quanti notturni ma che meraviglia bene pesate invece di chiudersi una camera vedere il porno in diretta col borghi a parlare d'arte no si fa freddo assolutamente ma poi sul balcone fa freddo anche d'estate figurati allora e l'altra parte però non è che posso tenere sveglio tutta la popolazione un attimo qui buonanotte da varese paolo savona non lo so se dipinge qui in compenso l'atmosfera notturna vedete ci sono in fondo ci sono le luci di como lì su c'è c'è la luna un po se riusciamo a farla vedere eccola qua le luci dall'altra parte del lago sono quelle lì che vedete sono torno quelle lì sono faggetto quindi in una maniera o nell'altra dal def avete detto sia i fondi per i vaccini abbiamo votato contro il def def non è una legge parliamo d'arte buonanotte della valtellina benissimo quindi via nord bene allora perché c'era la volta scorsa probabilmente si ricorderà che avevamo finito con gli astrattisti comaschi con rora dice carla prima e così questo tipo allora evolviamo un attimo da liva perché e poi dopo arriviamo a qualcosa che magari interessa un po di gente del tipo come si colleziona cosa costano come bisogna fare eventualmente per comprarli su un buon investimento parliamo di queste delle cosine qua allora ciao consuelo allora 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 quel tipo di astrattismo quello che vi ho raccontato l'altra volta quindi quello di ora dice così questo tipo è in tutta evidenza l'astrattismo cosiddetto geometrico perché in buona sostanza si cerca l'armonia di forme di colori e tutto partendo da forme geometriche quello per chi si fosse perso le puntate precedenti diciamo così relativo a gli artisti che fanno roba tipo la mia fotina no vediamo un po va vi riprendo qualcosa allora un attimo di tempo ma sono sicuro di riuscire a trovare qualcosa di decente tanto man mano arrivano sono già a 400 quindi figurati allora diceva ok quadri tipici per chi è così recuperiamo quadri tipici per esempio di radice diciamo questo ecco questo giusto per far capire di che si parla questo è un quadro della serie rs questo abbastanza divertente perché lui ovviamente non non aveva nessun tipo di idea di di farci delle figure c'è tutto il suo astrattismo era esclusivamente ricerca di armonia so cose tipo questo no vi ricordate vi avevo fatto vedere la decorazione della casa del fascio no fatta fatta così questo un altro un altro insomma lo vedete cioè forme colori che era una cosa incredibilmente di rottura per per l'epoca ma non l'intento non era proprio rappresentare nulla no il quadro che vi avevo preso io aspetta che lo riprendiamo eccolo qua questo qui è della serie abbiamo detto rs allora rs nasce perché lui faceva questi quadri all'epoca il il regime fascista non non era esattamente tollerante di cose molto al di fuori dalla tradizione dalla pura tradizione italica no e così questo tipo però loro avevano uno sponsor formidabile che che era il il l'autore delle 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 poesie fasciste delle poesie fasciste scusate le poesie futuriste c'è l'anima del futurismo che era il mitico filippo tommaso marinetti marinetti che era un si poeta si ma era proprio animatore era un uno che che promuoveva l'arte a tutto a tutto tondo e quindi mentre i futuristi erano visti molto bene insomma dal regime anche perché così portatori di idee audaci no e similari l'astrattismo non suonava bene ma lui l'invitava lo stesso nelle mostre dei futuristi che all'epoca erano quelli dell'avanguardia artistica no e in una di queste mostre c'erano le corporazioni fasciste dell'arte no e così via venivano fatte le mostre tipicamente al al palazzo della permanente il le mostre che venivano fatte a milano al palazzo della permanente a un certo punto mi pare che fosse una di queste oppure forse una quadriennale di roma non sono non sono sicurissimo comunque fatto sta che insieme con i futuristi ero pittori no quelli andavano molto di moda andiamo ero pittore tipico non so per esempio tullio crali no che una volta ho fatto questo è stata una delle scemenze perché c'era un capolavoro di crali che era in vendita quando io ero un ragazzino ragazzino no quando io ero un giovane collezionista e non l'ho presi eccolo qua vedete tipo eccolo qua cose di questo tipo qua no vedete motori da aereo ecco il quadro che era in vendita e che non comprai era questo qua questa picchiata sulla città no e similare c'è tutta il il tuffo del del paracadutista vedete no tutto tutto molto insomma un misto fra dinamismo audacia e cose di questo tipo no va bene all'interno di di all'interno di queste di queste mostre quindi quelle relative ai futuristi agli ero pittori no e cose di questo tipo c'era aspetta un attimo aspetta eh scusa no va beh all'inizio del di queste di queste mostre appunto queste abituate su con i futuristi gli ero pittori e robe di quel tipo lì eh c'era la sezione che Marinetti gli assicurava ai agli astrattisti e li chiamava astrattisti ero pittori futuristi e così questo tipo bene quanto eh a un certo punto viene invitato anche radice e eh e appunto mi sembra mi credo fosse una una delle quadriennali di Roma presenta quel quadro che avevo fatto vedere io prima che adesso lo riprendo non era esattamente quello ma era uno di quella serie ecco credo che fosse questo eh e penso che fosse non so se esattamente quello che che è esposto al al museo del novecento a Milano o o simili comunque vabbè diciamo sono tutti fatti più o meno così eh allora a un certo punto un quadro di questo di questo tipo era esposto in questa mostra arriva in visita il re eh arriva il re passa in rassegna i quadri si ferma davanti al quadro di radice e chiede bello che cosa rappresenta eh eh radice prende e così non aveva non era un uomo da un carattere un po' scontroso no tipo probabilmente un po' tossicchiando e così via prende e eh comincia a dire ma maestà ehm vuol rappresentare l'armonia perché non ha una rappresentazione vera e propria e così via mentre si stava incartando no sul eh è l'armonia e i colori non è che c'è veramente un eh un soggetto preciso allora Marinetti vista la malparata salta fuori come un salta fuori come un un furetto sposta radice e gli fa è un ritratto segreto maestà ah il re dice ah a quel punto convinto dalla 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 spiegazione dice ah bene passa oltre da allora tutti questi quadri di questa serie eh si chiamano r.s. che sta appunto per ritratto segreto eh il questa è una è una storia è una storia carina comunque eh dall'idea del fatto che in certi casi ci volesse anche il marketing all'epoca tanto per dire no le cose cominciavano a deteriorarsi ehm c'è una famosa pagina del Tevere che era un organo di regime ehm intitolato eh se non erro straniera bolshevica giudeizzante qualcosa del genere dove c'era un durissimo attacco alla pittura modella la pittura stratta quindi con esempi di quadri di rora dice eh soldati fontana giovane no e cose di questo tipo mh considerati fuori dai dai canoni del 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 regime comunque bisogna ringraziare in ogni caso Marinetti eh che eh li ha sempre sostenuti a spada tratta e eh ha consentito che si esprimessero eh liberamente anche anche in quegli anni ehm arriva la guerra eh arriva la guerra cancella più o meno tutto eh gli anni eh quindi 40 46 così di questo tipo non non c'è praticamente più niente diciamo da 42 46 47 eh eh non 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 c'è molto arrivano eh arrivano le ehm come si chiama eh si arriva agli anni cinquanta gli anni cinquanta ehm il mondo dell'arte è ancora sotto shock c'è un tipo di ricostruzione eh in atto eh e eh gli artisti per la prima parte degli anni anni cinquanta ehm diciamo fine anni quaranta inizio anni cinquanta copiano un po' i cubisti insomma qui in Italia non è che ci sono delle cose incredibili ehm a metà degli anni cinquanta segnatamente nel cinquantatremi cinquantaquattro invece comincia ad apparire quello che poi si chiamerà l'informale vale a dire gli artisti a un certo punto cominciano a dire che ehm eh per esprimere quello che ehm vogliono eh quelli che quello quello che che hanno dentro no eh la la forma geometrica non non bastava più e allora a un certo punto comincia segno libero eh comincia segno libero e ehm le forme che prima sembravano vedersi cominciano a sfaldarsi e si va quindi a partire dal cinquantaquattro e così via ad arrivare verso un gesto liberissimo eh per intendersi quello che più o meno internazionalmente si conosce già meglio eh fatto da Pollock ehm vale a dire eh la totale libertà dell'artista di andare a riempire riempire la tela e eh in Italia i massimi rappresentanti di tutto ciò sono vedova, scanavino, afro eh per intendersi scanavino vediamo un po' capite anche no che i segni lasciati dalla guerra e così via eh in qualche maniera dovevano dovevano venire fuori no? Allora scanavino vediamo se vi riesco a trovare qualcosa di particolarmente bello ecco questo è quello per dire questo è quello che che c'è il museo del novecento a Milano vedetelo qui il la forma geometrica andata fuori dalla finestra eh abbiamo il segno eh il segno diventa in questo caso nel caso di scanavino quindi che uno che indaga l'interiorità dell'anima no? E e simili è dato dal nodo quindi lui comincia con questi nodi accennati per poi arrivare con dei nodi ossessivi no? Queste sono l'ultima parte della della sua della sua arte quelli anni settanta ottanta no? E e similari no beh attenzione eh afro ehm segno libero ma segno libero nel senso segno libero dal significante eh eh invece vediamo per esempio afro eh afro allora afro devo scrivere afro basal della perché sennò mi viene fuori ovviamente mi vengono fuori afro ecco afro afro vediamo un po' se riusciamo a vedere un po' di evoluzione afro iniziava con delle delle figure di questo tipo eh e poi man mano a un certo punto ha cominciato a fare segno sempre più libero e poi alla fine è arrivato con delle cose ecco beh questo qui è tipico no? Questo questo qui era afro pre astrattismo no? Vedete che era ancora un po' cubista si eh si riusciva a fare eh faceva faceva queste eh anche lui era partito come figurativo eh attenzione ehm poi a un certo punto segno ha cominciato a rifarsi sempre di più vedete da qui si è passati a questo poi da questo si è passati a questo no? E alla fine era totalmente libero quello che che lui voleva voleva esprimere e sono venute fuori delle cose che erano totalmente meravigliose adesso poi io per carità eh eh questo sarà una eh come sempre può piacere non piacere ma io trovo che il suo modo di fare ehm delle delle sequenze di piani no? Lui riesce a dare una trasparenza come se mettesse dei vetrini colorati eh l'uno sull'altro eh e ehm e alla fine fa come se fossero veramente delle delle vetrate delle 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 composizioni che sono secondo me di una forza di una di una di una trasparenza di una coinvolgione cioè veramente penso che lui sia uno dei più bravi eh soffro tantissimo a non averlo in collezione ma d'altra parte lui era già molto costoso eh quando eh quando io ho cominciato ho cominciato a ho cominciato a collezionare ehm altri eh astrattisti dell'epoca venivano comunque afro Tancredi ehm ehm vediamo un po' Tancredi Tancredi forse un po' più facile da vedere ehm eh sì ciao Tancredi buonanotte Tancredi Parmigiani Tancredi viene fuori il portiere eh Tancredi Tancredi Parmigiani eccolo qua allora Tancredi lui aveva eccolo qua scusate Tancredi lui faceva il punto faceva aveva come questi questi piccoli segnetti che si allargavano poi sulla tela eh in segni linee e così via che si allargavano sulla tela eh in quasi come come se fossero boh delle delle bandiere vicine come come se fossero delle esplosioni di di colore sono è molto più la omaggio a Tancredi le opere al Google è certo eh si sa perché mi vengono fuori così ma eccolo qua perché diciamo che è un po' che è un pochettino un pochettino più facile eh se devo essere sincero come come artista si è creato un gran mito su Tancredi perché poi è morto presto e così via eh e soprattutto eh diciamo era era noto perché era uno dei preferiti di Peggy di Guggenheim questa donna straordinaria che eh a Venezia ehm si era creata una una innanzitutto una una casa dove dove raccoglieva e ospitava artisti in in tutti in tutti i modi no? eh eh e e lui eh e gli altri veneti lui Baci, San Tommaso no? E così via erano erano ospitati da lei e tuttora si possono vedere dei capolavori eh nel eh Guggenheim Museum di 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 Venezia che peraltro racchiude alcuni tra i più grandi capolavori della dell'arte contemporanea quella donna era assolutamente eh eh ciao Silvia eh era era assolutamente eh veramente meravigliosa come come idea come concezione come modernità eh questi erano diciamo eh gli esponenti dell'arte informale ehm uno di quelli l'ultimo che vi faccio vedere che che mi piace tantissimo è San Tommaso eh anche lui Veneto eh anche lui come come afro con una sensibilità veramente notevole eh meno trasparente di eh vediamo eh meno trasparente di eh di afro ma ehm secondo me altrettanto altrettanto bravo comunque costano anche più o meno più o meno uguale eh le tele se voi le vedete da vicino sono proprio anche quasi eh quasi lavorate quasi strappate il colore viene appoggiato che sembra quasi in rilievo eh ci sono secondo me veramente delle 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 sensibilità no in in queste opere che sono che sono incredibili ehm cosa rappresenta uno di no non rappresenta niente anche se in certi casi ehm si mettono dei titoli in certi casi si mettono eh delle si mettono delle situazioni non so per esempio io ho un San Tommaso eh che si intitola eh eh i se non mi ricordo male eh i i gialli e rossi della mietitura dove forse fra i segni sembra di intravedere eh la figura di un uomo che sta mietendo eh vediamo vediamo se c'è magari da qualche parte c'è una foto ah sì guarda ecco per dire questo che è un quadro della mia collezione eh forse la figura che mi è tesi uno la può anche intuire insomma questo questo braccio qua dietro no questa potrebbe essere la falce e eh eh no non mi trovo in un punto di Roma sono sono al lago ehm e per me io credo che diciamo gli informali italiani ehm erano grandissimi non non secondo me non sono secondi a nessuno certo gli espressionisti astratti americani eh che mentre per dire mentre un un afro magari costa boh centomila duecentomila euro se uno prende un The Koenig se uno prende altri quadri di espressionisti astratti americani che erano quelli appunto di di quest'epoca che facevano questo tipo di arte questo tipo di quadri e eh 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 seminari invece stiamo parlando di due milioni tre milioni insomma c'è un fattore mille di di eh di differenza ehm fattore dieci di differenza scusate la la notte la notte che mi mi annebbia comunque centomila duecentomila bisogna aggiungerci uno zero insomma per intendersi no eh e e dall'altra parte un milione due milioni ma in certi casi anche dieci milioni no come eh come come differenza eh gli espressionisti astratti però ricordiamo che hanno avuto dietro di loro eh innanzitutto la fortuna di essere americani innanzitutto la fortuna di di essere in un paese che la guerra l'aveva vinta mentre noi l'avevamo persa eh e eh la fortuna di avere ne è venuto fuori recentemente la storia eh il sistema america che anche attraverso i servizi segreti spingeva per la diffusione di questi quadri come strumento di diffusione di egemonia culturale eh per cui ehm insomma allora è andata bene però secondo me come qualità artistica non non c'è molta differenza e infatti la Peggy Guggenheim no che ovviamente ha virgolette scoperto Pollo che l'ha portato per prima in in Italia che quindi aveva occhio eh non no non dipingo eh e eh e quindi aveva occhio li considerava ovviamente dei dei grandi artisti e li sosteneva e e li aiutava però 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 eh eh cosa c'è eh di mezzo cioè vale a dire la sequenza dell'arte dell'arte astratta italiana gira così quindi vale a dire si inizia dal il futurismo non non è astratto a parte quelle cose che vi abbiamo fatto vedere tipo le compenetrazioni eridescenti e così via si passa all'astrattismo geometrico nel trentaquattro quindi Rora di Cereggiani soldati eh veronesi e così questo tipo si passa dopo la guerra mh il segno geometrico svanisce eh e eh si passa al 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 segno libero quindi alla alla strazione dopodiché il eh eh l'astrazione finisce cioè il segno informale finisce con Pinot Gallizio che era un soggetto fantastico era ehm la la MMT del dell'arte no? Lui praticamente eh volendo andare contro questo il il sistema dell'arte allora diceva benissimo ma se noi le ne stampiamo tantissimo allora prendeva i rotoli di 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 tela quella per eh industriale si metteva lì no? E faceva pittura eh astratta su questi tele di di eh su questi grandi rotoloni di tela e eh con gesto anarchico poi andava al mercato ma al mercato quello di 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 città e li vendeva con la forbice no? Cioè vendendoli a metro ehm poi vi racconto come ho iniziato a collezionare ehm li vendeva a metro questo con l'ottica di distruggere il mercato dell'arte no? Eh eh prendo uno dei rotoli di Pinot Gallizio sicuramente che sono un un atto assolutamente rivoluzionario la la stampante eh allora Pinot Gallizio allora lui era un soggetto curiosissimo e lui era un farmacista non aveva mai fatto pittura poi a un certo punto no? In età abbastanza avanzata come ha conosciuto degli artisti eh eh internazionali poi è andato a stare con gli zingari una roba insomma era un soggetto curioso eh eh e ecco qua eh vedete qui c'è Pinot Gallizio con i nastri no? Di eh eh di eh di pittura vedete eh eh e quindi lui voleva o intendeva distruggere eh il il mondo il mondo dell'arte utilizzando eh questa questa tattica no? Eh però gli andò male perché alla fine ecco qua vediamo vedete questo tipico ehm però alla 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 fine gli andò male perché peraltro dipingeva benissimo peraltro eh 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 e e gli andò male perché morì 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 subito evidentemente ci sarà stato il draghi dell'epoca no? dell'arte che ha tirato un fulmine perché eh non altrimenti ah non puoi non puoi eh con l'inflazione non puoi non puoi danneggiare il valore dell'arte con l'inflazione eh e così via ecco lui ah 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 pittura industriale e allora a un certo punto però purtroppo muore subito quindi quelle poche pitture industriali che ha fatto valgono tantissimo e e e e quindi alla fine esatta era di Alba e e e e quindi alla fine ha vinto il mercato sulla sua idea di distruggerlo e e e e quindi e quindi vale eh vale vale tanto eh certo che con eh questa questo tentativo di distruzione del del dell'informale a un certo punto si capiva che non aveva neanche più tanto da dire come metodo di eh come metodo di pittura eh e allora a un certo punto come spesso succede nella 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 storia si cambia totalmente no? fino a Galizio muore nel eh adesso non mi ricordo esattamente la data di morte comunque diciamo fa queste cose nel cinquantanove è morto poco dopo quindi non so se è morto nel cinquantanove nel sessanta e sessantuno o qualcosa del genere ehm e e allora praticamente a un certo punto dal cinquantanove in poi un gruppo di artisti prende a zera tutto dice no guarda qui è inutile cosa facciamo un po' meno paciugata no? E così via no azzeriamo tutto e a Milano nel cinquantanove con una fantastica mostra a base di pane salame lambrusco eh apre la galleria Azimut eh dove un gruppo di pazzoidi no eh Castellani, Bonalumi, Manzoni eh e similari azzerano tutto allora a un certo punto si riparte dal bianco si riparte dal bianco eh no numeri taglio i capelli sono quelli lì eh no no allora si riparte dal bianco e eh solo che a un certo punto uno dice ma dopo che ho fatto una eh Castellani Enrico dopo che dopo che ho fatto eh un quadro bianco sono 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 tutti uguali no? Eh beh la loro idea invece è stata è stata geniale allora praticamente questo è uno dei primi eh si prende la tela bianca ma la si estroflette quindi utilizzando dei chiodi delle centine eh eh e similari si eh riesce a tirare diciamo così la tela dentro e fuori come se fosse un un codice binario no? Un pieno vuoto e similari e quindi la tela si è bianca ma eh ma in realtà l'immagine c'è l'immagine c'è e eh la cosa eh incredibile è che ehm hanno scoperto che eh si poteva andava benissimo lo stesso perché ecco qua forse si vede bene da questa parte in re in realtà il quadro può cambiare con è vivo cioè perché a seconda di come cambia la luce sul quadro cambia anche il quadro se uno mette una luce radente ecco vedete qua il suo tavolo di lavoro no? Vedete questa è la tela eh con cui eh con cui a seconda dei chiodi messi messi sotto eh faceva eh faceva uscire o rientrare eh la la tela eh era un uomo molto c'è questa questa foto bellissima aspetta un attimo vediamo un po' se riesco a prenderla che meraviglia questo è Castellani alla Biennale di Venezia eh e lui era era un diciamo un gruppo un gruppo un gruppo strano perché c'era eh Manzoni che era che era il genio no del gruppo piccolino ehm sempre eh sempre in movimento eh e così via c'era eh Castellani che era magro elegantissimo no? Questo qui sempre serio eh c'era Bonalumi che era eh eh invece mh con gli occhiali no? Sembrava un un ingegnere per per intendersi ecco questi tre comunque hanno fatto veramente una rivoluzione perché quell'azzeramento poi arrivò in tutto il mondo in Germania ci fu il gruppo zero dove eh Pine bruciava i quadri eh Hücher faceva con i chiodi ma fuori dalla tela no? E similari comunque questo questo tipo di eh di rivoluzione eh fu assolutamente decisivo no? Per il cambiamento del dell'arte eh il ogni tanto c'è anche qualche simpaticone no? Scusate io poi non è che guardo tutti ehm guardo tutti i commenti ogni tanto lì se riesco a trovarne qualcuno da segare lo seguo ehm vediamo un po' se trovo ecco la differenza tanto per dire fra eh Castellani e Bonalumi allora Bonalumi ecco Bonalumi mentre Castellani usava eh qua mentre Castellani usava questo sistema di piedi di pieni e vuoti Bonalumi metteva delle delle forme sotto la tela no? Fino a creare questi abbracci fino a creare anche se la sua diciamo la sua il suo segno caratteristico sono quelle che vengono definite le tapparelle no? Ecco qua lui in compenso non usava eh sempre il bianco eh lui eh usava le tele colorate anche se il bianco lo lo utilizzava però aveva molta più libertà o fantasia nel eh nel mettere forme sotto sotto la tela no? Ecco anche se a dire la verità il suo segno tipico è proprio è proprio questo ehm direi che eh loro due veramente sono stati sono due grandissimi eh e ehm penso che 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 gli anni la pittura degli anni sessanta non 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 possa assolutamente prescindere da 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 loro hanno hanno fatto veramente una una rivoluzione al loro interno ecco Bonalumi era 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 lui no? Eh sempre lui morto da poco eh gli è stata dedicata così era quando era anziano eh gli è stata gli è stata dedicata una mostra molto bella eh a Palazzo Reale a Milano e comunque quello più più matto del del gruppo era ovviamente Piero Manzoni noto per la merda d'artista però lui mentre loro facevano queste cose quindi questi quadri che cambiavano con con la luce derivanti dalle dalle stroflessioni eh lui arrivava direttamente al punto finale aveva e lui presentava le linee eh eh nella nella stessa mostra vediamo un po' se 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 vi riesco a trovare Manzoni Manzoni linea linee eccole qua eh allora Manzoni ogni tanto ne riesce arrivare in in asta qualcosa sono dei cilindri dove eh si dice che all'interno c'è una linea di due metri una linea di quattro metri una linea di qualcosa ecco se uno proprio la apre trova una linea di questo tipo eh vedete questo è lui Manzoni con la linea dentro c'è contiene una linea oppure contiene una linea di lunghezza infinita se è scritta dentro nel cilindro e e lui era arrivato alle linee e secondo me era cioè veramente provocatorio perché lui poi faceva il teatro d'artista l'aria l'aria d'artista lui faceva il il podio eh faceva il supporto rovesciato per appoggiare il mondo eh quindi lui aveva preso un supporto l'aveva girato l'aveva appoggiato e ha detto ci appoggio sul mondo e questa e questa è la mia è la mia scultura ehm era 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 fantastica perché in una maniera o l'altra era un mondo vivissimo questi si ritrovavano al bar giamaica di Milano eh che era il il centro di tutti gli artisti dove Fontana in quegli anni immaginava i tagli eh Manzoni immaginate quanti geni no tutti in un solo in un solo posto eh Castello Castellani, Buonalumi, Fontana, Crippa, Dova e similari e beh Milano veramente credo fosse un'atmosfera quella Milano anni cinquanta assolutamente incomparabile in questo flusso diciamo così no dell'arte astratta che poi finirà con l'arte cinetica vale a dire un cambiamento ulteriore cioè vale a dire invece di cambiare il quadro con la luce cambia il quadro con la posizione del eh del dello spettatore tipicamente si usano dei trucchi diciamo così quasi da illusioni ottiche no in modo tale che a seconda di come ti sposti il quadro diventa cangiante eh lì c'erano erano molto bravi a Padova c'era il gruppo N di di Biasi eh e eh e gli altri che che sperimentavano no in un clima secondo me fantastico per eh per per quei tempi eh beh sì certo uno giustamente mi nomina alla Chrome perché eh 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 perché eh è vero che eh manzoni faceva le linee ma pittoricamente la cosa più bella di manzoni e sono proprio questi a Chrome appunto usando sempre il bianco eh eh e allora manzoni lo usava il caolino che è una il gesso eh allora manzoni a Chrome e eh eh e questi sono gli acrom di manzoni e eh che che sono fantastici cioè adesso poi eh è ovvio che vederli così non 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 dicono niente no ma bisognerebbe vederle dal vivo sono di solito delle tele anche piuttosto grandi eh con queste pieghe eh di 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 bianco ehm sono molto belle ecco mettiamola così eh e e rappresentano bene quel quel momento strano di Azimuth degli degli anni cinquanta in cui in cui a Milano si è cambiato proprio la maniera di di concepire l'arte per intendersi ovviamente dato che anche Manzoni è morto prestissimo dato che secondo me ci hanno messo dentro un po' di falsi perché erano forse troppo poche le opere che aveva in giro per riuscire a fare un mercato vero però insomma va bene quello quello che c'è in ogni caso specialmente quelli sicuri sono carissimi ecco una Chrome di Manzoni può venire a costare molti milioni di euro ecco mettiamola così questo veramente è proprio in in sommi capi no l'evoluzione dell'astrattismo avete visto dove siamo partiti siamo partiti da un quadro in movimento che è quello del futurismo fino all'ideazione dell'astrattismo geometrico dopo l'astrattismo geometrico siamo passati al gesto libero eh quindi a eh una forma che 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 non c'era eh forse ecco ovviamente abbiamo poco tempo se uno potesse esplorare quello se vogliamo parlare proprio invece di gesto no e così via quanto più c'è gesto e quanto più bisogna andare verso vedova che era comunista cattivo grossissimo con la barba no che aggrediva proprio la tela eh eh similare comunque diciamo informale eh dopodiché si è passati per tramite di Pinot Gallizio si è passati all'azzeramento quindi ad Azimut negli anni negli anni sessanta per finire anni sessanta inoltratti al eh all'arte cinetica no quindi a questi questi giochi di 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 luce e così via sui quadri diciamo che più o meno questa è la carrellata dell'astrattismo italiano ma c'è una parte importantissima che fa storia a sé che è unica nella storia del mondo dell'arte che è lo spazialismo eh fontana crippa e così via di cui vi parlerò la prossima volta nel frattempo grazie per avermi fatto compagnia anche stanotte grazie